Voglio trasformare questo posto nell'hotel a 5 stelle più bello del mondo. Lo ha confidato Michele De Negri, l'imprenditore di Torino che si è aggiudicato la storica locanda San Pietro di Porto Venere, al sindaco Matteo Cozzani dopo l'apertura delle buste dell'asta per l'assegnazione per 6 milioni della struttura a pochi passi, dalla chiesa di San Pietro e davanti all'isola Palmaria. Giornata storica per l'amministrazione comunale, per il comune di Porto Venere in generale, ma soprattutto per tutti gli abitanti del nostro borgo. Era una data che aspettavamo da 30 anni e finalmente grazie al dottor De Negri avremo la possibilità di vedere di nuovo l'hotel San Pietro ai vecchi fasti, riportato ai vecchi fasti, riaperto finalmente e soprattutto con tanta gente che ci lavorerà dentro. Uno scenario da sogno per un albergo chiuso per ristrutturazione dal 1988 è mai completato. Inaugurato negli anni 20 e frequentato anche dai reali di Monaco, sino a diventare nel dopoguerra il quinto hotel in Europa per pregio. De Negri si occupa del settore biomedicale, ma attraverso la sua società Aurora recupera locali storici, come il Ristorante del Cambio di Torino, famoso per essere stato frequentato da Cavour. Il dottor De Negri ovviamente svolge tutta una serie di attività e l'immobiliare non è la sua attività principale, ma si dedica al recupero di luoghi storici, come per esempio il Ristorante del Cambio di Torino. Quando è venuto per la prima volta qui a Porto Venere, si è appassionato talmente tanto della storia della locanda che ha deciso di investire. L'hotel è stato pignorato ad una società che deve corrispondere 500 mila euro di suolo pubblico non pagato per i ponteggi che furono installati per una ristrutturazione mai completata. I tempi di intervento saranno rapidi ed è prevista anche una riqualificazione di Calata Doria e della Piazzetta San Pietro. Entro l'anno vorrei che almeno la prima fase di mitigazione dei problemi, del rischio che ha la struttura venga eseguita e poi magari, perché no, iniziare subito i lavori e fare delle varianti in corso d'opera che possano permettersi appunto di non fermare il treno che è apparito con la giornata storica di ieri. Interventi importanti anche sulla Calata? Interventi importantissimi sia sulla Calata che su Piazza San Pietro perché gli oneri di urbanizzazione saranno volte appunto al miglioramento di questa zona e quindi tutto il rifacimento della zona di San Pietro e della passeggiata a mare che è un punto fondamentale e ovviamente anche negli interessi della struttura avere in perfette condizioni.